Siamo in Germania, più precisamente ad Ingolstadt, sede del quartier generale dell'Audi. Sono passati pochi mesi da quando è stata presentata al mondo la prima vera supercar dei quattro anelli, ma i tedeschi non ne hanno ancora abbastanza. Cari ascoltatori, benvenuti in un nuovo episodio di Storie a quattro ruote. Allacciate le cinture, scaldate i motori, si parte a bordo di una leggendaria Audi R8. Storie di auto leggendarie, storie di moto bizzarre, storie di eventi sportivi che abbiamo dimenticato troppo presto, storie di uomini e donne che hanno cambiato radicalmente il mondo dei motori. Questo è Storie a quattro ruote, il nuovo podcast di piedi pesanti e io sono Ermanno Ceccherini. Anni 2000, tra un Oktoberfest e l'altro, i più ingegnosi tecnici Audi sfornano una miriade di prodotti decisamente azzeccati. No, no, l'Audio A2 non c'entra assolutamente nulla, eppure, dicevamo, prodotti validi e performanti. Nello specifico, nel 2006 Audi presenta al mondo la sua R8, la prima vera supercar dei quattro anelli che voleva insidiare le premium sportive più blasonate, facendo affidamento sui classici punti di forza del marchio dei quattro anelli. Uno su tutti, un piacevolissimo 4200 V8 da 420 CV abbinato anche al cambio manuale. Complice a un prezzo competitivo e una meccanica all'avanguardia della tecnica, o se lo dicono loro sarà pur vero che diamine, l'R8 conquista il pubblico e almeno con le vendite insidia davvero Ferrari, Porsche e compagnia bella. Fermi, fermi, fermi tutti, la protagonista di oggi non è lei, o meglio, lo è però in una salsa leggermente diversa. Passano gli anni, l'Octoberfest perde fascino e i nostri amati ingegneri sfornano qualcosa di folle. Ma come? Proprio adesso che i fumi dell'alcol si sono attenuati, questi si mettono a far follie? Ebbene sì! Anno 2008. Non contenta della R8 standard, Audi presenta la R8 TDI. Che razza di follia è mai questa? Una supercar con motore diesel? Siamo al salone di Detroit e molto probabilmente i presenti hanno esclamato la stessa identica cosa. Stupore, confusione, imbarazzo, c'è un po' di tutto negli occhi di chi osserva questo prototipo tedesco. E già, perché parliamo di una concept car. Piccolo spoiler, rimarrà purtroppo una concept car per tutta la vita. L'Audi R8 V12 TDI Concept Car, questo è il nome completo che spero di non dover pronunciare mai più durante questo podcast, nasconde sotto il cofano un 6.000 turbodiesel 12 cilindri da ben 500 cavalli. E vabbè, ma che saranno mai 500 cavalli per una supercar? Non sono poi così tanti, non è così eclatante? Attenzione, piccola pausa. Pronti? 500 cavalli? Sì, ma ben 1000 newton metri di coppia. Avete sentito bene? 1000? Roba da auto elettriche? Forse. Se tutto ciò non fosse sufficiente, sappiate che la coppia era spalmata tra 1750 e 3000 giri al minuto. In sostanza, non avevate neanche il tempo di dare gas che la R8 vi proiettava nell'iperspazio. E lo faceva coccolandovi con un bellissimo cambio manuale. Lo so, volete sapere anche questo, quanto faceva da 0 a 100? Ve lo dico, 4,2 secondi ed era in grado di superare i 300 km orari. Roba da far davvero impallidire le rivali a benzina. E a dirla tutta, era l'auto più performante dell'intera gamma Audi e se la giocava, anzi, forse era avanti anche a molte supercar benzina decisamente più blasonate di lei. Diesel e sound, però, non sono mai andati tanto d'accordo. Come potrebbe mai suonare una sportiva, anzi una super sportiva, con un motore a gasolio? Non scherziamo. Non scherziamo affatto. O meglio, non scherzarono affatto i tecnici di Audi perché risolsero anche questo problema con una linea di scarico ad hoc che rendeva giustizia al mostruoso diesel. E non lo faceva sfigurare neanche di fronte alle auto benzina. Manco a dirlo, la trazione integrale 4 era una delle specifiche fondamentali affinché tutto ciò fosse possibile. Piccolo riassunto. I tedeschi hanno preso un R8, le hanno donato un motore diesel gigantesco, lo hanno imbrigliato con la trazione integrale 2 milioni di centraline e hanno compreso che adesso dovevano concentrarsi sull'estetica. Immaginatevi per un attimo cosa devono aver pensato al reparto design quando hanno capito che questa era l'Audi più performante di sempre. Osservando l'R8 turbodiesel V12 si rimane perplessi. Molti continuano a criticare la linea dell'R8 a suon di è invecchiata davvero male. Io non la penso così. Anzi. Però, cari ascoltatori, questa versione diesel sì che è nata, non invecchiata, nata proprio male. Sembra il risultato di un tuner di provincia che vuole a tutti i costi incattivire qualcosa che invece rappresenta un discreto connubio tra eleganza e sportività. Il frontale è una presa d'aria continua con una griglia a nido d'ape che ricorda proprio o sì, la griglia del barbecue dismesta all'Octoberfest dai noti birrai tedeschi. Qui, oltre ad arrostire il classico Vustel, c'è spazio anche per un montone intero perché occupa interamente la porzione anteriore dell'automobile. Minigonne di dubbio gusto abbassano la linea laterale e ci proiettano sul retro dove, probabilmente, hanno per qualche minuto fatto la pace con le follie precedenti e il posteriore nel complesso non è poi così male. Bellissimo invece il tetto in vetro che accoglie una presa d'aria NACA per il sistema d'aspirazione del grosso motore. L'interno si veste di fibra di carbonio ed alluminio. Non cambia molto esteticamente rispetto alle versioni classiche però si impreziosisce con un volante più moderno che ospita un pulsante per l'avviamento del motore e anche un manettino per le diverse modalità di guida ovvero Dynamic, Sport e Race. Manco a dirlo, anche se un diesel non compare nessuna modalità. Ecco, che goduria. Non voglio però privarvi di qualche piccola curiosità. Per salvaguardare cambio, frizione, differenziali e Dio solo sa cosa, i Audi hanno depotenziato il V12, sì, avete sentito bene, il 6.000 da 500 cavalli poteva sprigionarne in realtà molti di più con un conseguente aumento esponenziale anche della coppia. Si parla infatti di poco meno di 700 cavalli per 340 km orari di velocità massima. E purtroppo non abbiamo nessuna indicazione sulla coppia che comunque sono certo essere mostruosa. Ma leggere insieme Audi, V12, TDI, non vi dice proprio nulla? Male, ragazzi, molto molto male. Vi do un altro piccolo indizio, Le Mans. E già, questo propulsore è strettamente imparentato con quello dell'Audi R10 che dominò la 24 ore di Le Mans per ben due volte prima del 2008. Purtroppo, come in ogni storia d'amore che poi si infrange contro gli scogli della burocrazia, i piani alti decisero che questa stravagante R8 non avrebbe avuto futuro. Decisione saggia? Non sta a me dirlo, non sta a noi giudicare. 15 anni fa il diesel però era ossannato e bramato da tutti. Allo stesso tempo erano in pochi forse a preferirlo ad un benzina, soprattutto quando si parla di supercar e non c'erano i presupposti per produrre una supercar a gasolio. Il progetto risultò sicuramente un ottimo esercizio meccanico, però nulla più. Finché, qualche anno dopo, dalle parti di Ingolstadt, provistando in un magazzino, qualcuno non trovò una dozzina di V12 turbodiesel. Perché rinunciare a qualcosa di così particolare quando abbiamo una Q7 pronta ad accogliere anche il motore più mastodontico? Ma questa, cari ascoltatori, è un'altra storia. Per oggi è tutto, grazie per aver ascoltato questo podcast. Se c'è qualcosa che reputi non corretto o sbagliato, segnalamelo su Instagram al profilo Ermanno Ceccherini o nelle mail che lascio in descrizione. Se il podcast ti è piaciuto, lasciaci una recensione o una valutazione. E se vuoi dire la tua, non esitare a contattarci. Ti aspettiamo. Ci sentiamo nel prossimo episodio.